me lo dici complimentissimi davvero Luca tanta roba tanta roba perché non era scontato non era scontato che io tornassi a certi livelli perché quando si è giovani e si cresce se si fanno le cose fatte bene è naturale no si vede il talento si vede il lavoro e riesce a salire invece con quello che ho avuto io il tracollo psicologico che ho avuto con la perdita di mia mamma io l'anno scorso non sapevo se fossi se eri in grado di tornare a essere quello che insomma sono stato nei miei migliori anni anche perché insomma l'età avanza tra dieci giorni faccio 32 anni non è così scontato essere ancora competitivo con ragazzi che hanno 5 6 addirittura 10 anni meno di me però ho lavorato bene con un nuovo gruppo di un nuovo allenatore insi in palestra che in acqua e sono tornato veramente ottimi livelli gara è stata bella nervosa sapevo che me la giocavo lì con de plano che è appunto un giovane che sta venendo su molto molto bene e è proprio stata un centesimo dell'arrivo dai la quella è stata l'esperienza che ho grazie 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 grazie